Io ti penso raramente, te lo dico veramente, è bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente. Come sempre a Videotop vi segnaliamo i grandi appuntamenti dal vivo. Biagio Antonacci è di scena con Palco Antonacci, due concerti e eventi unici ed esclusivi per la musica live del cantautore Biagio Antonacci. Il 24 maggio all'Arena della Vittoria di Bari con ospiti Alessandra Amoroso e Giuliano Sangiorgi, mentre il 31 maggio sarà allo Stadio San Siro di Milano dove duetterà per la prima volta insieme a Laura Pausini e a Deros Ramazzotti. Quindi due appuntamenti davvero da non perdere. Come il prossimo, naturalmente, firmato video. Top! E' bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, con la forza della mente, allontano i momenti che mi tornano veri. Quando rara e radiosa mi venivi a cercare.